Su, finiscila. Ecco, è finita, basta. È sempre a essere lunga. È dura, è dura questa qui, è dura, è dura. È dura come noi italiani, Alexa, ragazzi. Io veramente sto leggendo delle cose che veramente bisognerebbe prendere un badile e utilizzarlo percuotendo tutti questi fenomeni connazionali che fanno finta di niente. Cioè sono arrivate delle ordinanze, per carità, restrittive. Non è che uno è felice di quello che sta succedendo, non è felice per niente di quello che sta capitando. Però loro fanno finta di niente, se ne fregano allegramente. E gli esempi sono sconfinati. Perché io ho dato come titolo a questa rubrica, a questa diretta, il titolo che ho dato? Perché ho scelto quelle parole lì? Cioè l'unico errore del governo rischia di essere quale? Quello di avere dato troppa fiducia agli italiani al loro senso di responsabilità. Ho scelto questo titolo, amici miei, perché per ora di senso di responsabilità io ne vedo meno di niente. negli italiani. Non in tutti, per carità. Ma in molti italiani io non lo vedo. Per farvi un esempio, io stamattina, non stamattina, diciamo il primo pomeriggio, ho visto un video della mia amica e collega Selvaggia Lucarelli, per TPI, che è andata a intervistare le persone che partivano dalla stazione di Milano Centrale. Voi sapete che nella notte tra sabato e domenica si è reso ufficiale il decreto che fa sì che la Lombardia, insieme a 14 città sparse nel nord e il centro nord, sono diventate zone chiuse. Non si può più entrare né uscire, salvo comprovati motivi. Salvo comprovati motivi. Comprovati motivi che vuol dire? Vuol dire lavori improcrastinabili, vuol dire purtroppo ci avete dei parenti che stanno male, li dovete proprio andare a salutare giusto gli ultimi giorni o comunque hanno un bisogno impellente di voi. Motivi improrogabili, dai ragazzi. Uno fa un'autocertificazione e solo in quel caso parte. Negli altri casi no. Allora voi dovete vedere, dovreste vedere questa intervista e questo servizio che ha fatto Selvaggia Lucarelli perché non è cambiato assolutamente niente. Cioè ieri mattina, perché il video credo fosse ieri mattina, tutti partivano tranquillamente e quando lei, Selvaggia, con la telecamera, con lo smartphone, faceva delle domande del tipo sì ma vi rendete conto che voi non potete partire perché ci sarebbe un'ordinanza? Questi si incazzavano anche. Sì vabbè dai ma che vuoi non rompere i coglioni, dai su ma io devo tornare a Roma perché dovevo tornare giovedì poi ho messaltato. Non la far lunga. Qualcuno che l'ha trattata anche male, qualcuno che faceva il gradasso, questi bonzoloni che la trattavano come se fosse una scalza cani. Cioè questa è la cifra tipica di molti italiani che non soltanto hanno torto e frodano la legge ma quando gliela fai notare fanno pure gli arroganti perché tu sei stato stronzo a fargli notare la legge. Cioè questo è allucinante. Altra cosa gravissima e lì sì che ha responsabilità il governo, non c'era mezzo controllo ma mezzo. Lei ha preso un biglietto per Bologna, è entrata, ha superato i varchi della stazione senza che nessuno le chiedesse niente, è salita in treno senza che nessuno le chiedesse niente, poi è uscita un secondo prima che partisse il treno perché non voleva prenderlo ma nessuno che l'ha controllata. A un certo punto ha incontrato dei militari e questi militari hanno fatto anche tenerezza perché hanno detto sì noi siamo qui però noi concretamente non possiamo fare niente che è straordinario, perfetto. Quindi al momento noi abbiamo delle restrizioni secondo me giustissime ma non c'è nessuno che le controlla perché uno o si fa l'autocertificazione dicendo comprovati motivi devo per forza andare a Roma, devo per forza andare a Napoli, prova a dimostrare che non è così se nessuno te li controlla. Qualcuno neanche ha bisogno di fare l'autocertificazione perché nessuno te lo chiede. Io voglio sperare che in queste ore miglioreranno e aumenteranno anche perché diminuire è difficile aumenteranno i controlli stringenti perché se ci sono delle zone che sono delle zone chiuse porca di una miseria devono essere chiuse e se noi siamo un paese straordinario ma anche pieno di persone molto meno straordinarie che se ne sbattono alle palle delle regole anche in un momento di reale emergenza autentica come questa e allora servirà il pugno duro ragazzi servirà mettere giù l'esercito e controllare tutte le entrate e uscite di quelle città e di quelle regioni dove non si può entrare e uscire salvo in prorogabili motivi che vanno anche dimostrati possibilmente. Purtroppo il senso di responsabilità io lo vedo totalmente latente altri esempi che mi sono appuntato leggo molti commenti anche vostri persone famose persone non famose che mi dicono che vi trovate sempre più spesso davanti a dei assembramenti di persone soprattutto giovani che continuano a fare l'aperitivo come vogliono continuano ad andare al ristorante come vogliono continuano a fare le feste come vogliono e fanno anche dei video e in questi video loro allegramente dicono sì vabbè ma tanto il virus colpisce i vecchi cazzo me ne frega me che sono giovani ora al di là del fatto che più passano i giorni più ci si rende conto che è vero fino a un certo punto cioè la stragrande maggioranza dei casi colpisce le persone meno giovani ancor più quelle anziane ma ci sono dei casi anche di ventenni trentenni quarantenni quindi io fossi un giovane ventenni o giù di lì farei poco il ganassa prima di tutto ma al di là del fatto mettiamo che sia così e cioè che i giovani siano salvi dal coronavirus e non è vero ma mettiamo che sia vero ma che cazzo di senso di responsabilità avete cioè io non mi ammalo quindi poi se io divento un untore e ammazzo mio nonno mio padre mia madre me ne sbatto le scatole cioè ma che generazione è non sono così tutti i giovani ma ne vedo tanti che sono così ce ne sono altre due due ragazze anche queste sono state beccate da Selvaggia e Lucarelli che se ne sono andate mi sembra in Sicilia ad Agrigento perché dovevano partecipare a una festa alla Movida di Agrigento una è partita da Milano una da Roma se ne sono allegramente fregate delle regole e poi si sono anche filmate hanno fatto i fenomeni i miti questi qui no? si vantavano guarda come sono belle qui con la Movida noi siamo usciti anche da Milano siamo fighe ma andate a fare in culo e andateci veramente dritte cioè questa è gente visto che c'è nell'ordinanza un aspetto chiaro che dice chi non rispetta queste regole sicuramente è faticose per tutti ma chi non le rispetta si becca tre mesi di galera dateglielo tre mesi di galera ci sono le facce ci avete i video giù tre mesi di galera accertate la situazione se è andata veramente come loro stessi o loro stesse hanno raccontato tu le becchi le denunci e gli dai tre mesi di galera oppure l'equivalente in una multa vedrai che la seconda volta cambiano parecchio se evidentemente tanti italiani non riescono a rispettare le regole da sodi facciamogli rispettare in un altro modo anche quelli meno giovani ieri ho raccontato due anziani che sono scappati da Codogno perché dovevano fare un weekend in Trentino Alto Adige anzi in Alto Adige per l'esattezza se non ricordo male e sono dei fenomeni poi c'è un'altra scienziata che io ho trovato straordinaria un genio assoluto io adoro la Lega come sapete ma per carità diciamo l'ignoranza e chiamiamolo il menefreghismo dai voglio essere buono stasera il menefreghismo è trasversale quindi c'è nel centro c'è a destra c'è a sinistra c'è le 5 stelle c'è ovunque ma questa tale Salta Martini che credo sia anche una che è stata anche in Parlamento anzi credo sia tuttora in Parlamento non so immagino sia una parlamentare ma insomma questa Salta Martini ha fatto leghista ha fatto una festa ieri a Terni perché c'è stata non so quale cazzo di elezione suppletiva a Terni che ha vinto la Lega è già uno ma chi se ne frega delle elezioni suppletive con sto gran casino del coronavirus quindi ammesso che tu sia anche felice cosa ci sarà da festeggiare oggi per un'elezione suppletiva vinta dalla Lega dove avranno votato 7 persone quindi già la motivazione ma questa Salta Martini credo siamo i Barbara adesso eccola qua eccola qua guarda là che donnina bella che è questa qua guarda che bella foto che mi ha pubblicato che meraviglia la deputata pubblica ecco una deputata non è una senatrice la deputata pubblica un post su Facebook poi rimosso perché questi sono tutti geniali questi sono persone che fanno il danno poi se ne rendono conto e cancellano come a dire io non ho fatto niente Repubblica gliel'ha fatto notare e lei ma perché mai fatto nulla ha pubblicato anche le foto ha pubblicato le foto con 60 persone asserragliate proprio appiccicate per fare il selfie ieri sera c'era già l'ordinanza 60 persone e il problema non è che è della Lega poteva essere dei 5 Stelle poteva essere del PD che me ne frega anche Zingaretti ha fatto la sciocchezza dieci giorni fa di fare il video non il video la foto con l'aperitivo a Milano Milano riparte la movida riparte in parte palle poi però ti sei preso il coronavirus amico mio Zingaretti ma questa qui che fa addirittura il giorno dopo l'ordinanza per dare il buon esempio questa fa la festa a lei tutti insieme noi 60 per festeggiare le elezioni suppletive le elezioni suppletive la vittoria della candidata leghista Valeria Alessandrini ma cosa cazzo me ne frega a me di Valeria Alessandrini cosa festeggi Valeria Alessandrini che hai vinto Wimbledon ma che festeggiamento è deputata questa è una deputata credo avesse anche un incarico nel precedente governo nel sal di maio mi sa che sbaglio di poco ma almeno un sottosegretariato ce l'aveva ma ripeto non è il problema lei il problema è che stiamo dando la prova di non fregarcele nulla delle regole e quindi delle persone che abbiamo accanto e la situazione amici miei nel frattempo non è che sia idilliaca non è che sia idilliaca perché ovviamente aumentano gli infetti le persone malate chiamiamo persone malate infetti fa veramente orrore è brutto aumentano le persone malate per fortuna aumentano le persone che guariscono che sono la stragrande maggioranza molte di queste guariscono senza neanche aver bisogno di veder da lontano l'ospedale però purtroppo aumentano anche i decessi allora di fronte a una situazione del genere con il rischio possibile per non dire certo che altre zone diventeranno rosse da qui ai prossimi giorni perché i prossimi giorni saranno i più difficili e quindi saranno i giorni in cui tutti noi dovremo avere un rispetto sacro sacro e sacrale delle regole bisogna stare attenti proprio in questi giorni che sono particolarmente difficili ogni errore ogni mancanza di rispetto è doppiamente grave perché dobbiamo venire incontro alle persone che si sono ammalate alle persone che hanno più problematiche e dobbiamo anche venire incontro a quei grandissimi straordinari eroi che sono i medici gli infermieri che stanno facendo dei turni massacranti di 18, 20, 24 ore al giorno che non dormono praticamente mai che rischiano la vita per salvare la vita a noi meneferghisti del cazzo e quindi dobbiamo dare il massimo in questa fase storica visto che noi italiani ce l'hanno sempre detto a noi giovani e meno giovani ci hanno sempre detto che noi italiani abbiamo sempre dato il massimo nei momenti di grande difficoltà ed è vero la storia dice questo e non mi sembra che per ora lo stiamo facendo e se continuiamo così amici miei per la prima volta io devo dare ragione a Matteo Salvini perché Salvini che è un ondiva che ha detto prima chiudete tutto poi aprite tutto ma per carità due settimane fa anch'io ero molto più ottimista di adesso ma adesso Salvini sempre con questo suo atteggiamento vagamente furbino da un punto di vista politico voglio utilizzare questo eufemismo ha detto ragazzi facciamo tutta l'Italia una zona rossa che è tremendo da un punto di vista economico e anche da un punto di vista di libertà personale perché significa tutti noi da ora in poi ce ne stiamo chiusi asserradiati in casa nostra e usciamo giusto per quelle 3-4 cose che potremmo fare uscendo di casa però rischia di essere l'unico modo perché se noi da soli non riusciamo ad autoregolamentarci allora servirà evidentemente un governo forte spietato con i militari in ogni città e appena ti vedono uscire di casa ti dicono dove cazzo vai vai a fare il culo e torna a casa è l'unico modo ragazzi è l'unico modo o ci diamo una svegliata lo dico anche ai genitori io non sono genitore che peraltro rivendico pure in questa fase storica perché mi sembra di aver avuto sin troppo ragione ma amici miei genitori qualche piccola regola la vogliamo dare ai vostri figli oppure no perché un 12enne 14enne c'ha delle colpe sì però magari c'ha anche dei genitori che non gli hanno dato mezza regola cerchiamo tutti di dare il massimo dal primo all'ultimo mia zia Sandra che lavora al supermercato qui ad Arezzo mi raccontava pochi minuti fa che sta vedendo delle scene allucinanti sta vedendo delle persone ma non le persone anziane le persone anziane sono le più corrette di tutte sono le persone più preoccupate e più corrette di tutte sta vedendo delle persone che se ne vanno a fare la spesa non rispettano minimamente la distanza droplet di un metro se ne stanno lì a tocchicchiare la frutta e la verdura senza i guanti e quando glielo fai notare si incazzano pure dove vogliamo andare con questo atteggiamento ragazzi dove vogliamo andare con questo atteggiamento tenendo conto che il coronavirus aumenta sempre di più la sua propagazione c'è poco da fare è così si propaga tanto non è letale o per meglio dire ha un tasso di letarità relativamente mille virgolette relativamente basso ma si propaga velocemente più si propaga più noi mettiamo in profonda difficoltà gli ospedali ancora di più quegli ospedali al sud leggevo che in Sicilia ci sono pochissimi casi per ora meno male di coronavirus ma quei pochissimi casi già stanno mettendo in difficoltà la sanità siciliana ci rendiamo conto se aumenta il rischio se aumenta il numero di malati in Sicilia in Calabria in Campania in Puglia in Molise in Basilicata i rischi che ci possono essere sentivo questo neopresidente Iole Santelli della regione Calabria dire se succede anche più o meno ha detto questo la traduco se succede anche solo un decimo di quello che sta succedendo in Lombardia noi non ce la facciamo neanche lontanamente non sono pronti i nostri ospedali allora bisogna avere rispetto ragazzi quei fenomeni che sabato notte hanno preso l'ultimo Intercity da Milano per andare a Napoli e Salerno sono stati degli scellerati tranne quei 5 10 eventi che avevano dei motivi comprovati io capisco poi De Luca De Magistris che fanno i video dicendo vi dovete mettere in quarantena da soli dovete autoregolamentarvi ma come fai a fidarti di persone che si sono allegramente fregate delle regole che c'erano già in corso ma per un attimo si era persa la connessione questo è il grande problema ragazzi il problema è il comportamento che stanno avendo in questa fase gli italiani cos'altro vi posso dire ragazzi stasera vi posso dire che l'unica notizia buona sono due le notizie anzi tre le notizie positive che io vedo e che vi voglio dire il primo è che la regione Lombardia il suo assessore alla sanità se non ricordo male adesso non mi viene il nome ma mi tornerà ha detto che per ora per ora secondo lui la regione Lombardia intesa come sanità la sanità della regione Lombardia quindi delle varie città lombarde sta tenendo questa è una buona notizia non so quanto sia vera e quanto sia ottimistica per tranquillizzare le persone ma lo ha detto l'assessore quindi sicuramente è qualcosa che bisogna ascoltare con attenzione quindi ci sta dicendo che con tutte le problematiche enormi perché la Lombardia è la regione che è più è stata più colpita da questa maledetta da questo maledetto virus per ora sta tenendo ma è un per ora sottolineato per ora iper sottolineato siamo a un passo quindi bisogna avere grande senso di responsabilità anzitutto in Lombardia ma non solo mentalmente ragazzi noi dobbiamo entrare nella logica per cui non esistono zone rosse zone arancioni zone bianche siamo tutti rossi è una zona rossa mentale per tutti noi ci dobbiamo comportare anche in città per ora toccando ferro relativamente sane come la mia o come spero per voi la vostra noi dobbiamo comportarci come se vivessimo a Codogno come se vivessimo a Lodi al momento bisogna fare così niente zone arancioni rosse gialle bianche verdi rosso mentalmente ragionate così la zona è rossa quindi mi devo comportare in questo modo perché ci sono delle sanità che tengono più o meno come quella lombarda altre verrebbero disintegrate da una pandemia legata al coronavirus prima cosa che vi volevo dire la seconda cosa non prima cosa che volevo dire la prima cosa positiva che vi volevo dire la seconda cosa positiva la leggo per ora ma incrociamo le dita il paziente 1 di Codogno respira autonomamente quindi speriamo in bocca al lupo a questo povero ragazzo 38enne da cui tutto è derivato tutto è derivato senza sua colpa per l'amor di Dio nel senso che è paziente 1 paziente 0 tanto non lo scopriremo mai l'altra cosa che volevo dirvi e questa è importante ragazzi questa prendete un attimo cercate di stare attenti a quello che sto per dirvi perché io come miliardi di persone e come anche la virologa del sacco la dottoressa Gismondo due settimane fa si diceva perché ce lo dicevano gli esperti che il tasso di letalità del coronavirus era sotto l'1% chi diceva lo 0,5 chi diceva lo 0,7 chi diceva lo 0,9 poi è venuto fuori che questo tasso di letalità è aumentato tanto tanto perché è diventato il 40% però sai se cominci a vedere 9.000 casi complessivi 463 morti è il titolo di adesso del fatto quotidiano più o meno vuol dire che il tasso di letalità è del 3,9% ieri era del 3,9% chi ha ragione? quelli che dicevano che erano 0,3 0,6 0,7 0,9 o quelli che dicono 3,9 e potrebbe anche salire una risposta possibile che io ho sempre sostenuto essere quella giusta ce l'ha detta nei giorni scorsi la virologa Capua quando ha detto ragazzi quando noi leggiamo i casi complessivi di malati da coronavirus o per il coronavirus o con il coronavirus dobbiamo moltiplicarli per 100 cioè se noi leggiamo 9.000 casi in realtà potrebbero essere 900.000 questo l'ha detto lei non l'ho detto io perché? perché cito adesso l'istituto di sanità che è una frase è proprio una dichiarazione dell'istituto di poche ore fa con i tamponi solo ai sintomatici quindi tu i tamponi ovviamente li fai soltanto ai sintomatici non agli asintomatici perché non ha senso farli agli asintomatici con i tamponi solo ai sintomatici probabile sottostima del denominatore cioè noi rischiamo di avere di dare dei numeri che sono molto ma molto ma molto più bassi di quelli effettivi perché probabilmente i malati sono molti di più secondo insisto la signora Capua questi malati potrebbero essere cento volte tanto quindi ascoltandoli addirittura potremmo essere non a novemila casi complessivi ma a novecentomila casi complessivi se non sono novecentomila di sicuro sono molti ma molti ma molti di più dei novemila attuali cosa significa questo? questo anche se vi sembrerà un paradosso per certi versi è l'unico aspetto positivo perché significa che in realtà il coronavirus appunto è molto meno letale di quanto sembra in queste ore perché se voi dividete il numero dei decessi non per novemila ma per novecentomila o per quattrocentomila o per trecentomila quel 3,4% diventa addirittura se fossero novecentomila 0,039 quindi cambia tutto magari così è troppo ottimistico però anche questo perché ve l'ho raccontato? intanto perché l'ha detto l'istituto di sanità adesso quindi loro sanno noi no ma lo dico anche perché quando si straparla di tasso di letalità non si può sapere con esattezza perché non si sa né il numero vero dei malati né il numero vero delle persone che se ne sono andate purtroppo per il coronavirus o se ne sarebbero andate a prescindere senza coronavirus perché il loro quadro clinico era già compromesso quindi stiamo molto attenti stiamo molto guardinghi di fronte a questo famigerato tasso di letalità che ci terrorizza perché probabilmente è molto ma molto più basso di quello che sembra in questa fase di questo 3,8% ma questo se è un aspetto sicuramente positivo non ci deve minimamente fare abbassare la guardia dobbiamo comportarci insisto come se tutti noi vivessimo in una zona rossa mentalmente tutti voi lo dico a voi che mi state seguendo quindi spero che molti di voi sarete già smaliziati ma ditelo anche a quelli che si stanno comportando fregandosene della situazione come se loro fossero supermen non degli imbecilli dite a tutti di comportarsi come se tutti vivessimo a Codogno come se tutti vivessimo a Lodi come se tutti vivessimo in Lombardia come se tutti vivessimo a Pesaro Urbino a Parma a Modena sto citando quelle città o quelle regioni dove c'è l'embargo dove c'è proprio la quarantena dove non si può entrare uscire salvo comprovati motivi questo è importante ragazzi o noi diamo il massimo in questa fase storica e allora conteniamo i propagazzi del virus e torniamo al più presto possibile a una vita prima decente e poi normale ammesso che la vita di prima fosse normale perché a ripensarci adesso conducevamo una vita completamente da dissociati e da disadattati da nevrastemici che correvano senza alcun motivo o diamo il massimo in questa fase storica oppure ci facciamo male e facciamo male alle persone che hanno più problemi di noi bisogna essere altruisti bisogna essere intelligenti bisogna essere ponderati bisogna essere rispettosi bisogna essere dei maestri di buonsenso e bisogna anche insegnare buonsenso a quei campioni di intolleranza di egoismo e di deficienza che con il loro comportamento scellerato rischiano di peggiorare una situazione che è già complicata poi ragazzi che vi devo dire noi abbiamo anche dei parlamentari che o fanno le feste e fanno la foto come la signora Santa Martini che vi ho citato ieri abbiamo anche dei parlamentari che non più tardi di qualche ora fa davanti a 1.800.000 persone che il loro plateau di fan su Facebook fanno dei video dicendo il virus non esiste per combattere il virus basta mangiare il salame all'aglio di Ferrara è qualcosa che ho sentito dire da un deputato ovviamente non farò il nome ma mi sto riferendo al vecchio scorreggione di Ferrara è gente che è in Parlamento perché evidentemente qualche coglione l'ha anche votato però abbiamo anche sta gente qua cerchiamo di muoverci bene ragazzi cerchiamo di di essere lucidi perché è il momento in cui tutti noi dobbiamo dare il massimo assoluto ho parlato come sempre molto pure troppo adesso io voglio rispondere a qualche vostra domanda anche se fra pochi minuti vi lascio perché alle 19.53 tutti voi dovete andare di corsa a guardare il mio caro amico Peter Gomez speriamo finisca presto questo virus noi italiani non siamo pronti e siamo culturalmente indecenti e Francesco al momento faccio fatica a darti torto bisognerebbe iniziare a pensare soltanto a una cosa state a casa mi dice un amico e beh è quello che ho detto finora ragazzi l'unico modo per curare 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 no per limitare il propagarsi di questo virus è esattamente stare a casa lo so che è noioso ragazzi e so anche che c'è qualcuno che lavora c'è tutti e non possono smetter di lavorare però tutti quelli che hanno una scelta non parlo quindi di quelli che poverini devono andare per forza al lavoro e rischiano di ammalarsi ogni giorno perché lo so io sto parlando di quelli che hanno una scelta gli studenti le casalinghe i lavoratori autonomi come me quelli che sono molto privilegiati e molto fortunati bisogna che escano il meno possibile possibilmente mai soprattutto in questi giorni o che escano per carità che escano però stando sicuri di non incontrare nessuno o di poter rispettare il famoso metro di distanza il droplet perché per carità se io prendo la moto come ho preso stamattina io la prendo e la riprenderò anche domani non do fastidio a nessuno prendo la mia moto c'ho tutti lontani chi se ne frega posso portare a spasso il mio cane però quando cominci ad andare al bar quando cominci ad andare al ristorante allora diventa un qualcosa di rischioso anche nelle zone che non sono rosse mettiamocelo in testa più saremo diligenti inflessibili e netti in questi giorni prima torneremo alla vita cosiddetta normale più invece faremo i furbi come quei di imbecilli che ho citato a inizio diretta e più questa situazione complicata difficile anzitutto per i malati per i medici e per gli infermieri perché gli eroi di oggi sono i medici e gli infermieri sono persone che meritano tutto il nostro applauso più faremo gli imbecilli più complicheremo la vita a noi ma un po' ce lo meritiamo ma pure a loro e loro non se lo meritano purtroppo siamo un popolo di ignoranti e caproni e non è sempre così ma spesso è così o a volte è così ecco questo mi fa sempre piacere io sono veramente contento nel fare una diretta in cui non mi esatto no non è proprio il verbo giusto ma cerco di di credere in quello che dico perché ci credo cerco di fare informazione poi vede un commento a caso e uno dice facciamo un po' cerchiamo di fare qualcosa per le luci di questo video cioè uno ho parlato 20 minuti del coronavirus e questo ha notato soltanto le luci che evidentemente non gli piacciono ma io mi domando ragazzi ma per essere deficienti ci sono delle scuole o uno nasce proprio deficiente così io non riesco veramente a capire queste cose noi abbiamo un negozio a Livorno e abbiamo deciso autonomamente di stare chiusi fino al 16 marzo hai tutta la mia stima e so quanto deve essere doloroso per te questa decisione sei un grande ed è un grande la tua compagna sono grandi tutti quelli che lavorano con voi in bocca al lupo ragazzi molti mi stanno citando il vecchio scorregione di Ferrara ragazzi parliamo di cose serie non me ne frega niente di quello lì l'ho citato semplicemente per dire che anche in Parlamento ci sono persone che stanno facendo una cattiva informazione dicendo che non esiste questo virus o che basta mangiare il salame all'aglio di Ferrara per guarire io fossi in voi questa gente qua non solo non la voterei più perché se l'avete votata siete degli imbecilli ma la querelerei anche perché è cattiva informazione ed è qualcosa di estremamente pericoloso in tempi di pandemia però basta con parlare di queste cose perché parliamo di cose serie c'è troppa psicosi in circolazione così si rischia di fare ancora più danni sono d'accordo con te ma tra la psicosi a caso cioè tipo quella di andare a svaliggiare i supermercati che non serve a niente o comprarsi 180 mascherine che non servono a niente quando non sei malato e far finta di niente c'è una via di mezzo non siate psicotici non fatevi prendere dal panico perché è una cosa da cui si esce più forte di prima ma non fate neanche finta che non esista niente perché qualcosa è successo qualcosa sta succedendo e non è che bisogna aspettare che dall'alto ci dicano si ferma la serie A per capire che la situazione è grave la situazione è pericolosa e complicata già prima che si fermi la serie A già prima che si annulli nei tornei di tennis come India Wells già prima che si metta in discussione le Olimpiadi di Tokyo non me ne frega niente di queste cose ragazzi navighiamo a vista perché in questi giorni bisogna navigare a vista quindi godetevi la vostra compagna godetevi la vostra vita privata scopate dalla mattina alla sera leggete dei grandi libri guardate le serie televisive su Netflix su Sky su Amazon Prime dove volete ma non fate finta di niente perché qualcosa purtroppo è successo e non è che a Milano sono messi male mentre ad Agrigento possono fare quello che vogliono non è così perché se continuiamo così Agrigento diventa peggio che Milano non è che ci vuole uno scienziato per capirlo tutto questo beh quale sarà il mio prossimo libro Dario ne parliamo quando siamo usciti da questa situazione comunque l'ho già scritto quindi te lo potrei già dire ma non è il momento di parlare del mio libro poi quando uscirà e saremo tutti più tranquilli stai tranquillo che te ne parlerò con attenzione ma sappi che l'ho già l'ho già scritto è praticamente finito hai letto il mio post su Facebook c'è qui anche questi sono veramente qualcuno di voi è un genio cioè io ho tipo 7000 persone collegate 600.000 fan questo non l'ho mai visto hai letto il mio post su Facebook cioè io dovrei leggere il post su Facebook di persone che non conosco perché giustamente io devo leggere 600.000 persone è bellissimo proprio mi sto leggendo a volte sembra che uno si blocchi perché non chiudiamo tutto Ilario è quello che diceva a inizio diretta se continuiamo ad avere questo menefreghismo profondamente dannatamente colpevole sarà l'unica soluzione a quel punto per forza bisogna chiudere tutto ragazzi perché è ovvio perché se noi la capiamo con le buone la capiremo con le cattive allora arriverà un decreto e ci dirà cari italiani visto che siete degli imbecilli dei coglioni e dei cretini ve l'abbiamo detto in 70 lingue adesso vi si dice in un'altra lingua vi si blinda in casa vi si mandano i militari in ogni città e appena uscite sono capaccioni se va bene se va male vi si sbarba in galera è l'unico modo ragazzi io sono giorni che ve lo dico o la capiamo con le buone oppure arriverà un decreto che al cui confronto quelli di questi giorni sono garbati sono bazzecole bazzecole credo che non lo usassi da 76 però ormai mi è uscito così bazzecole neanche la Walt Disney credo usi più bazzecole problemi nelle carceri sì lo so Cinzia ci sono rivolte praticamente non dico in ogni carcere italiana ma in molte sì da San Vittore a Modena a Cremona mi sembra ovunque Foggia Foggia la situazione è drammatica Foggia ah una cosa che non ho detto mando un abbraccio enorme sincero e non c'è nessuna ironia a Nicola Porro io e Porro ci siamo spesso bastonati lui ha bastonato me io ho bastonato lui spesso sotto la cintura rivendico tutto come farà lui quando però c'è di mezzo la malattia io non scherzo più quindi visto che Nicola Porro ha annunciato di avere il coronavirus e sicuramente ne uscirà più forte di prima ne sono sicuro perché è un uomo molto forte un abbraccio e le prese per il culo io sul coronavirus non le faccio lo fanno altri ma io non lo faccio quindi gli auguri che ho dato a Zingaretti a Salvini che non è malato ma un suo agente della scorta li rivendico e ovviamente mando tutto l'affetto del mondo e ogni augurio di pronta guarigione a Nicola Porro chiusa la parentesi sei eccezionale la bocca delle verità mi piace un sacco per l'amor di Dio magari per carità menefreghismo totale verso il prossimo lo so Barbara lo so lo so ovviamente Maria l'ho detto adesso Nicola Porro e anche Zingaretti Zingaretti sono tre giorni che gli faccio gli auguri che devo fare di più ascoltiamole le dirette quando parlo ragazzi cosa penso di questi 20.000 soldati americani che sono sbarcati nei giorni scorsi penso che approfondirò la notizia e poi ti risponderò perché al momento caro Roberto non ho le idee chiare quindi devo capire meglio come sta la situazione e poi quando la capirò bene vi risponderò tendo a parlare solo delle cose che conosco benino o bene quindi questa non la conosco bene preferisco non risponderti questi sono i danni che hanno fatti Italia la sanità sono d'accordo con te ed è ovvio ma anche questo è molto grave che noi ce ne siamo accorti nella nostra maggioranza nella nostra interezza di popolo soltanto di fronte a questa situazione qua Italia la sanità o alla sanità non della Italia la sanità era un argomento che ogni volta che veniva toccato le persone cambiavano canale perché non fregava niente a nessuno ecco Italia la sanità vuol dire anche questo vuol dire che noi nel 2020 abbiamo 5.000 posti non di più 5.000 posti in terapia intensiva nella sanità pubblica che diventano 10.000 se noi liberiamo anche i 5.000 posti della sanità privata 5.000 più 5.000 tenendo conto che purtroppo non è che col coronavirus smettono di esserci gli infartuati quelli che hanno lictus quelli che hanno avuto incidenti stradali dove li metti tutti quelli che si ammalano gravemente di coronavirus si aumenta questo maledetto numero di malati gravi è tutto lì il problema ragazzi è tutto lì più siamo menefreghisti più noi ingolfiamo tragicamente il sistema sanitario nazionale soprattutto quello di quelle regioni che è già complicato funziona già malino normalmente figuriamoci come funzionerebbe di fronte a una pandemia trasmetti tranquillità ti ringrazio Luca e sarà anche per questo che siete sempre così tanti in queste dirette stasera siete addirittura arrivati ai 10.000 siete completamente pazzi vi ringrazio ma non è sicuramente il momento per star qui a fare la conta dei numeri vi voglio soltanto dire che vi voglio bene vi abbraccio e queste dirette spero che aiutino voi ma aiutano anche me quindi grazie non puoi mandarmi video cara Monica io non ho né mail né possibilità di farmi mandare video sto benissimo così il contatto tra me e i miei fan tra virgolette è più che sufficiente con queste dirette facebook o con i commenti quindi non mandatemi video non mandatemi mail perché non ce la farei a starvi dietro quindi è una forma di rispetto nei vostri confronti non lo so se c'è stata una sottovalutazione all'inizio di questo problema Lorenzo se tu senti e rileggi le dichiarazioni di due settimane fa molti come la dottoressa Gismondo che è a capo del sacco quindi vive a contatto col virus dicevano che la psicosi era totalmente sbagliata infondata e lo diceva la Gismondo che ne capisce sicuramente più di me e di tutti noi poi si è propagato molto più velocemente del previsto perché questo virus si propaga molto ma molto velocemente non lo so se c'è stata una sottovalutazione possibile è probabile anche da parte del governo dopodiché rifletterci adesso sulla sottovalutazione serve a poco e vi vorrei anche ricordare che dopo 3-4 giorni tutte le regioni o gran parte delle regioni colpite dal coronavirus vorrebbero già ripartire perché mi ricordo Zaglia che diceva basta ripartiamo Sala che diceva basta ripartiamo Fontana che diceva basta ripartiamo quindi anche qui bisogna mettersi d'accordo ragazzi perché una volta il governo ha sottovalutato poi il governo fa la decisione dura e a quel punto ci divite e gli diciamo è però il governo così blocca l'economia e non c'è la cura perfetta ragazzi quando c'è una pandemia non c'è la soluzione ideale si può semplicemente limitare il danno ci fosse la soluzione perfetta la prenderemo non c'è non c'è l'unica cosa certa è che dobbiamo dare il meglio di noi stessi se non lo facciamo questa pandemia invece che durare 1-2 mesi dura 7-8 mesi e peggiora anche grazie a quegli imbecilli che citavo a inizio diretta imbecilli e ribadisco imbecilli perché quelli che sono andati prendendo quei treni di nascosto fregandosi nelle regole senza avere dei motivi comprovati sono degli imbecilli degli irresponsabili dei cretini e meritano laddove fosse certificato il loro dolo quei 3 mesi di galera previsti dal decreto approvato sabato notte il livello culturale meglio degli italiani è realmente pietoso sono d'accordo con te quando finirà tutto non lo so Anna Maria servirà pazienza io come ho detto nella diretta di ieri firmerei tutta la vita per ricominciare a fare spettacoli teatrali che significherebbe che tutti noi siamo tranquilli dal primo maggio mentre l'ordinanza parla del 3 aprile ecco io per carità ho delle date teatrali anche il 4 aprile quindi già dovrei farle il 4 aprile secondo me non le farò ma spero di avere torto firmerei tutta la vita per ripartire da maggio tutta la vita facendo un marzo e aprile non tragico ma di grande attenzione grazie a te grazie per queste dirette sempre utili e al contempo divertenti e di grande compagnia grazie a te il governo è stato culato dice Luisa sono Lombarda e resto in Lombardia ci mancherebbe altro Daniela facessero tutti come te tra l'altro è una regione così meravigliosa grande stima Andrea soprattutto per le parole su Porro ci mancherebbe altro chi pensa che io esulti perché un mio avversario si fa per dire non stia bene non ha capito un cazzo di me io non sono come certi miei avversari non parlo di Porro parlo di altri analfabetismo funzionale e come e come però la galera anche a chi ha fatto uscire le notizie Mario sono totalmente d'accordo con te ma bisogna scoprire chi l'ha fatta chi ha fatto uscire quella bozza del decreto di sabato notte prima che fosse autorizzato chi è stato la CNN dice la regione Lombardia cioè la Lega ma la regione Lombardia dice di no qualcun altro per esempio Marco Travaglio asserisce secondo me giustamente che sono stati probabilmente qualche ministro che non ama granché Conte o qualche sottosegretario o qualche sapete quei boiardi quei funzionari che sta lì nascosto in Parlamento che vivono da secoli dentro le stanze segrete magari detestano Conte l'ha messo in difficoltà chi lo ha fatto è uno scellerato ha creato un disastro però bisognerebbe scoprirlo ragazzi e finché non lo scopri in maniera proprio plastica ed evidente e come fai a punirle mentre invece gli imbecilli che non rispettano le regole ce l'hai davanti ci sono persino delle persone che fanno pure i video perché si vantano io vado a Madrid sono scappato da Milano bravo bravo un paio di palle sei un coglione te è quello che hai accanto siete degli imbecilli che abbiate 18 20 30 40 anni non capite niente siete degli imbecilli voi vi dovete guardare allo specchio e la prima cosa che dovete dire sono un coglione già quindi la consapevolezza della propria deficienza vi potrebbe aiutare ne dubito però vi potrebbe aiutare saluti da Milano saluti a te ragazzi le ultime tre domande così chiudiamo questa diretta prima che tutti si vada a cena spero che farete una bella cena spero che aprirete un bel vino siete ancora 6.000 quindi voglio chiudere questa diretta così con tantissime persone tre domande finali ragazzi poi ci salutiamo e ci troviamo domani perché cercherò di farvi compagnia il più possibile sempre a quest'ora 6.30 7 più o meno l'inizio della diretta sono due dirette che ti seguono non so perché ma stai diventando il mio mito saluti dalla Danimarca mi sembra eccessivo sei troppo buona o buono non ho fatto in tempo a vedere se sei uomo o donna di sicuro ti invidio molto perché mi piace tantissimo una Danimarca anche se ho visto più che altro Copenaghen però è una nazione che mi piace moltissimo altre due domande o riflessioni che meritano di essere lette quando è che torneremo normali ci vorrà un po' di tempo amico mio ci vorrà un po' di tempo per tornare normale perché l'italiano meglio si crede più furbo degli altri è esattamente il punto e il tema del mio articolo di domani sul fatto quotidiano sembra una battuta ma esattamente comincia così comincia con l'italiano meglio di Maccio Capatonda che era una grande intuizione di Maccio prima trailer e poi film a cui partecipai con un piccolo cameo e poi cerco di sviluppare questo tema perché l'italiano meglio si sente sempre più furbo degli altri non lo so ma è una tara genetica ormai che molti hanno e di sicuro rientra nel nella caratterizzazione dell'italiano meglio ragazzi buona serata buon lunedì sera buona cena fatevi un bel bicchiere di vino perché ve lo meritate sicuramente e noi ci vediamo domani vi abbraccio e grazie della compagnia ciao grazie a tutti grazie a tutti